Il primo maggio è un giorno importante, è la giornata internazionale per il ricordo di tutte le lotte per i diritti dei lavoratori. Sacrificio, passione e impegno sono le qualità che mandano avanti la nostra società tutti i giorni. L'equilibrio della nostra civiltà si mantiene attraverso un ciclo che tocca tutte le generazioni e che getta le sue basi in un'istituzione fondamentale, la scuola. L'insieme degli insegnamenti che impariamo a scuola forgiano la cultura e l'umanità di ognuno di noi. Questo ci consente di formarci come individui e di trovare il nostro posto nella società, ci permette di pensare con la nostra testa e di osservare con occhio critico in modo più profondo la realtà che ci circonda. La scuola e la cultura sono fondamentali nella vita delle persone, la rendono migliore. Ci sono persone che come lavoro hanno deciso di dedicare la propria vita alla cultura e di investire il loro tempo per valorizzarla attraverso lo studio, la ricerca, la creatività, l'arte. Noi di Archeia lo facciamo attraverso la musica. Siamo ragazzi universitari che hanno deciso di unirsi per creare uno spazio che potesse diffondere l'arte e che studiano perché vogliono che diventi il loro lavoro. In quanto giovani musicisti in erba, anche noi in questo momento così difficile ci sentiamo smarriti poiché non si percepiscono previsioni sul futuro del nostro settore. Lo Stato da sempre considera il mondo dello spettacolo, in particolare quello della musica, come l'ultima ruota del carro, ma il primo quando si tratta di fare tagli ai fondi. Tutto tace, ma noi no. Noi continuiamo a suonare, a creare e a dedicarci ogni giorno con passione alla musica e alla cultura. Aiutateci, continuiamo a farla crescere insieme ed alimentarla attraverso il lavoro che abbiamo scelto per il nostro futuro. Grazie a tutti.